Sono Donato Masci di Studio Sound Service, sono un progettista acustico, mi occupo di progettazione acustica e audio per ambienti differenti dagli studio di registrazione, quindi audio facility, sale conferenze, uffici, acustiche edilizie, tutto quello che c'è. Abbiamo seguito tutto il percorso di Smart Environments con connessioni, quindi le varie tappe, rimini, vari eccetera eccetera, oggi siamo in casa perché il nostro studio è effettivamente dedicato come connessioni a Firenze, quindi siamo molto contenti di poter parlare oggi all'ordine degli archiviti, all'ordine degli ingegneri, questo che sia stata una cosa molto interessante sia a livello divulgativo ma anche collaborativo. L'acustica è una delle prerogative di base per cui un ambiente Smart possa funzionare, tutte le tecnologie audio più innovative hanno bisogno di un condizionamento dell'ambiente dal punto di vista acustico, per cui fondamentalmente il nostro scopo è quello di rendere l'ambiente di base idoneo per poter utilizzare le tecnologie. Uno dei domenzi di cui ci interessiamo parecchio è una cosa abbastanza nuova, però insomma è la consulenza acustica per l'impegno di evacuazione audio e di sicurezza che spesso vengono produttati dagli impiantisti, però ora viene richiesto chiaramente anche un progetto tipo acustico per verificare che siano intelligibili, diciamo, perché noi acustici chiaramente in queste situazioni lavoriamo effettivamente da progettisti, cioè tutto quello che riguarda il disegno anche architettonico ma anche la struttura perché comunque ci sono isolamenti importanti e quindi bisogna vedere anche un po' la parte strutturale, non è che puoi fare un controffitto di centinaia di tipi senza coinvolgere la parte strutturale.